Oggi parliamo dei possibili vincitori della Champions quest'anno. Ci sono secondo me quattro squadre che lottano per il titolo. La prima è il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain che ha dimostrato contro il Barcellona di avere una rosa capace qualitativamente di arrivare in fondo. E soprattutto perché è un allenatore che è nelle coppe specializzata a vincere, una i Emery. La seconda squadra è la Juventus, che ha fatto un mercato stellare, che ha una coppia in attacco, Iguain e Dybala, che basta per vincere le partite e ha sicuramente una delle migliori difese d'Europa e del mondo. La terza squadra che mi sento di candidare è il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco che, oltre ad avere un allenatore preparatissimo e che, seppur non ha convinto in questo periodo con il gioco, è un, diciamo, pioniere dell'idea che i campionati e anche le coppe si vincono a marzo e ci possiamo aspettare ancora tanto dal Bayern Monaco. La quarta squadra che, secondo me, potrebbe fare la sorpresa è il Leicester. Perché il Leicester? Sembra, diciamo, una favola, ma in realtà non lo è assolutamente, una cosa assolutamente concreta. Affronta il Siviglia che sta puntando in alto anche in campionato e quindi potrebbe essere distratta. L'unico impegno dell'Ester è quello di salvarsi ormai quest'anno e, vedendo i giocatori che ha, non dovrebbe essere un'impresa ardua. E un altro aspetto è che l'Ester in Europa gioca come faceva l'anno scorso in Premier League, ovvero spensierata perché non ha paura di sbagliare. Sa che è normale perdere e sarebbe normale quindi uscire anche con un risultato roboante. Quindi non ha timore di fare la partita che sa fare, come ha dimostrato l'anno scorso. Ecco, tra queste quattro squadre però, credo che la favorita in assoluto sia il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco è in assoluto la squadra più pronta per vincere la Champions, a mio parere. L'unico problema che può affrontare il Bayern Monaco è quello di affrontare il Paris Saint Germain. Quindi mi sento di dire che se il Bayern Monaco non affronterà il Paris Saint Germain prima della finale, vincerà il Bayern Monaco. Altrimenti la Juventus, perché? Perché la Juventus ogni volta che passa un turno tende sempre a migliorare il proprio rendimento. E questo farà sì che arriverà in finale con una capacità, oltre nel migliorare il proprio gioco, che ancora non è perfetto. Oltre a questo, credo che potrà migliorare anche l'aspetto difensivo che ultimamente è andata a calare. Solo cambiando il modulo, il modulo di gioco ha migliorato un pochettino i suoi risultati. Quindi credo che il Bayern Monaco vincerà la Champions se non affronterà il Paris Saint Germain, altrimenti la vincerà la Juventus.